perciò finalmente anche in italia arriva superman e lois o finalmente quanto tempo l'abbiamo desiderata questa serie di cui si parla tantissimo già dal suo inizio dalla sua prima messa in onda americana dove ha avuto grande successo sia di critica che di pubblico perché ne hanno parlato in maniera entusiastica in quanto una serie veramente di qualità e noi ci crediamo perché se è la critica e se il pubblico sono d'accordo un motivo ci sarà quindi la prima stagione gli episodi inediti assolutamente inediti in chiaro italia 1 da sabato 16 luglio in prima serata con i primi tre episodi superman e lois è incentrata sulle dinamiche familiari della famiglia che clark kent il grande amore della sua vita lois lane si è creato con avendo dei figli adolescenti praticamente si trasferiscono nella famosa cittadina di smallville vi dice qualcosa smallville ecco diciamo che vuole essere un po una sorta di smallville in chiave diciamo in chiave attuale in chiave moderna smallville altra serie di grande successo che in qualche modo viene dal dall'universo superman quindi fumetti dc comics quindi sabato 16 luglio ve la consiglio vivamente su italia 1 in prima serata ciao